ciao questo è il solito video sui film che riesco a vedere anche se questo qua è un po come si dice a qualche anno che delle 2000 del 2013 però sono riuscito solamente adesso sono riuscito solamente adesso a recuperarlo guardare li volevo dedicare questo video sul sul mio canale che si chiama la casa che il solito film che come paesi di produzione ho visto che prende come si dice è solito morai americano degli stati uniti però visto che può prendere anche come paesi di produzione può prendere anche l'australia come film che a parte della regia di questo fede alvarez che come film 2 a 1 e mezza quei 90 minuti quasi di film che come ho detto prima è uscito nel 2013 più che altro a maggio del 2013 è uscito questo film qua ma sono riuscito solamente magari adesso a recuperarlo nel guardare che mi è capitato di trovarlo e me lo sono andato a guardare che come stavo dicendo prima il solito film che qua in italia è stato distribuito dalla owner boss italia che più che altro questo qua è un remake del film che ha fatto come si dice un remake di del film che avevano già fatto nel nel 81 che come regia quello dell 81 la parte della regia e a questo seme raimi perché che il primo dell 81 mi ricordo che l'avevo visto ma questo questo remake che è un remake che parla più che altro è come si dice parla di queste tre ragazze che hanno fatto nel 2013 no l'ho voluto vederlo per vedere ma è un po le differente le differenze che poterò che magari che hanno fatto con questo remake che parla più che altro come si dice parla di queste tre ragazzi e due ragazzi che divisi in coppie per tipologie umane i fratelli mare con problemi la fidanzatina la pragmatica il professore si economica in questa casa nel bosco per per il weekend che come si dice l'intenzione di e di aiutare una di loro a chiudere più che altro con la droga passando con lei i primi giorni di assinenza che ed è proprio la più facile la prima essere posseduta da un da questo demone evocato dalla lettura di alcune pagine di un volume ritrovato negli scantilati che è spaventata da quanto sta accadendo la ragazza chiede aiuto agli altri i quali magari scambiano il delio per crisi d'astinenza che rifiutano ma è anche di lasciare il posto almeno fino a che non cominciano come si dice su seguire si magari di oriente posizioni e mutilazioni auto inferne che che ci sono magari ho visto anche scene magari proprio da film horror che sicuramente a chi piacere questo tipo di igiene di igiene questo qua proprio la casa anche mai il primo è il video evil dead magari è uno di quei film da darsi magari a recuperare anche il primo quello dell 81 magari chi è appersonato dell'oro magari si va e si va magari anche a guardarli magari anche tutti e due quello del come si dice quello come ho detto morai prima del 81 questo remake che hanno fatto nel 2013 che come stavo dicendo che sicuramente morai a chi piace questi tipo di questo genere di film oro sicuramente è un film da andarsi a andarsi a recuperarselo morai nel guardare che solito morai film anche inquietante un po' più che altro e si vede anche molto sangue che più che più che altro morai a farla breve magari ci sono questi cinque amici che scoprono il misterioso e potentissimo libro dei morti che libera amore questo demone è violento che è impegnato ma è impegnato ma è a questa più che altro questa missione più che altro come si dice in questa missione sanguinosa a farla breve la trama che visto che mi sono andato a vedere questo remake e li voglio dedicargli questo video visto che magari quello vecchio del 81 non gli avevo mai ancora fatto magari il video su questo a questo film che magari sotto in descrizione come al solito vi lascio tutte le informazioni di questo film sia quello dell 81 e questo remake che hanno fatto nel 2013 tra quello di Sam Raimi e di questo Fede Alvarez e niente che quello che potevo magari dire su questo film del remake che hanno fatto nel 2013 ho già detto che al massimo come ho detto prima trovate tutte le informazioni sotto in in descrizione e niente per questo film ho già detto tutto e ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao